Le prossime amministrative padovane stanno agitando le acque in Casa Lega. La scelta dell'imprenditore Francesco Peghin come candidato sindaco, proposto dai vertici del partito, non piace a un'ampia parte del carroccio padovano. A dirlo, senza tanti giri di parole, Marcello Bano, sindaco leghista di Noventa Padovana. Il candidato migliore in questo momento tra la brutta coppia di Giordani e Roberto Marcato è una cosa talmente naturale che mi pare impossibile che non sia stata discussa tra i membri della Lega, tra i sostenitori, i militanti della Lega, visto che dopo dovremmo fare noi la campagna elettorale. Secondo me la Lega deve incominciare a ripartire i territori dalla base e deve incominciare ad ascoltare il territorio prima di calare le decisioni dall'alto. Bano propone come candidato sindaco per Padova l'assessore regionale Roberto Marcato e contesta il metodo di scelta dei vertici leghisti che hanno fatto un nome senza una discussione. Il metodo è quello di ascoltare la gente, a me non mi interessa se il candidato è della Lega, di Fratelli Italia, a me interessa che il candidato sia vincente, quindi bisogna ascoltare i militanti, bisogna ascoltare la gente. Nel caso specifico di Padova una figura che scalda i cuori, che piace alle periferie, che piace ai cittadini è indubbiamente l'assessore regionale Roberto Marcato, piace. Per queste parole, ora, l'ex vicepresidente della provincia potrebbe rischiare un provvedimento disciplinare del suo partito e forse anche l'espulsione.